oh vecchio eh oh c'è uno mi lascia un gatto su piatto è uno di botte e uno mi metta l'anno e non mi dà non sapevo che voglio dire scusate a dirti ti con saluto da mi mi non ho niente per ti tante parole le cade del cuo ma non ho niente per ti ma chi te caga da me sta paga mi non ho niente per ti mi non ho niente per ti mi non ho niente per ti sta sentendo te suga conmigo avevi sei problemi che ti puoi risolvere ti che quando chi suga dopo due ore chi parla ti si vede come ti come ti come chi come mi sono rotto il caso parche mi bug in barbara pro si king no passate drivati no guà faccia da prete non mi piace i putei a mi mi piace i tetti infatti invidi i putei basta me stare non sta a dirmi di cantarti tocchi una canzone e ti ti fa ria tocchi i tocchetti e ti metta ria tutto dentro un cassone ti porta il rispetto che non siamo miga me ne strafe sotto al tuo tetto e a tuo tipo a me neanche altri osei invece di rompere il caso passi il caso dei social vieni fuori i concerti te ti diverti porta calboccia non so migo manichino non crodino non so tuo cugino e tuo frateo con te mi vedi in giro non so attorno mia vita con cassate non so fare il beo mi non so niente so manco da niente so solo senti me asente se te mi vedi sorridente se so calma parente ti ho saluto da mi mi non ho niente per t tante parole le cade dei cuo ma non ho niente per t ma chi te caga da me sta paga mi non ho niente per t 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 non sta a fare il figo con mi proprio mai da niente di non fa sbaglio proprio ho detto così e si è tutti in fit ma in massa per un altro gin come che siamo un ciappai campagnolo ecco dodo dodo mi riparei dubai lavata e cavata e crosta e pare malta via e tasi le porto qua legnaro auto lavagli i basti ho ciò che tutto torna sabato di sera piedi da monica sai tu che buona ne voglio ancora pari mona ma si sei mi broda te dago una stecca torno mi prima dai carci che ti dà l'ospedale so il meglio sta dentro di il meglio dei peso so qua da tempo fiero di essere bene ma so cali ma se domandemo cosa ha avuto vecchio